Inizio rispondendo a tutti quelli che nel video a caldo mi hanno risposto E, chi se ne frega, saranno mica questi i problemi della vita No, assolutamente, i problemi della vita non sono questi Sono cose molto più importanti Ma, se devo dirvi, sì, sono stato molto contento di aver preso un gol al 94esimo che mi ha permesso di non vincere la partita Vi dico una piccolissima bugia Così, tanto per l'altro che non è stato un solo commento, ma numerosi Mi sembra doveroso dirlo Sigla, poi iniziamo, va Come sempre, OneFootball Il link è qui sotto, ragazzi, scaricatevelo Andate a vedere tutti i post partita di questo Juventus-Lastio Lastio-Juventus e per un po' ci rilassiamo Dato che c'è la pausa nazionale Ci vediamo tra una decina di giorni Vedremo un po' cosa fare Su OneFootball ci sono tutte le ultime notizie Anche per capire gli infortunati, chi va in nazionale e chi no E un mi piace a questo video Mettete un mi piace a questo video Per supportare questa baracca che ho creato Allora, qua c'ho la formazione della Juve A Scesni direi di dare sei Non c'è stato praticamente mai bisogno di Scesni Mai bisogno di Scesni in questa partita Non è colpa sua, non è colpa mia, non è colpa vostra Sei politico a Scesni Direi di non avere nulla da aggiungere Mi è piaciuto molto Danilo Gli do sei e mezzo Voglio premiarlo, mi è piaciuto veramente tanto In tutte le fasi, offensiva, difensiva È veramente in difesa, il giocatore forse in più Il giocatore che ci sta aiutando di più In tutto questo avvio tribolato di stagione Dalla prossima dovrebbe esserci anche Alexandro E il dubbio È logico Questo Danilo Che destino dà ad Alexandro? Giocherà Alexandro se sì Nel ruolo di Danilo? Più avanti? Non lo so, lo vedremo Sicuramente Danilo è uno dei più positivi In questo obbio di stagione De Miral Solito problemino legato ai piedi Nel senso che Insomma, quando è ora di andare ad impostare O di gestire il pallone Si vede che quella palla scotta Non dei grandissimi demeriti da parte di De Miral Non credo che sia stato colpa sua il gol Ora, magari me lo ricordo male Ma penso che sia stato più Bonucci il colpevole Quindi De Miral do sei A Bonucci invece un cinque Gli lo voglio dare Perché lasciare girare Caicedo in area di rigore In quella maniera Capisco che non sia proprio La principale colpa di Bonucci Perché c'era stato di tutto e di più Roba bruttissima in precedenza Ma cazzo, all'ultimo secondo Ma sentilo Sentilo, marcalo a uomo Marcalo Difensore contro attaccante Tiello lì E invece purtroppo 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 no Quindi penso che Bonucci Abbia questa insufficienza Ed è un peccato perché La colpa diventa di Bonucci Perché in quel momento Lo lascia andare Ovviamente Correa salta Bentancur E Rabiot a centrocampo Come due birilli Di Bala perde quel pallone là Quindi poi le colpe Diventano di Bonucci Ma direi che Vanno suddivise un po' per tutti Fra botta Gli do sei Forse meno Perché c'è stato un momento Nella partita in cui Sentivo che quei palloni Scottavano Erano pesanti Per lui Però è un ragazzo Dell'Under 23 Sta facendo la vera Prima propria stagione In Serie A Nella Juventus Nove volte campione d'Italia Nella Juventus Di Cristiano Ronaldo Lui ha tutte le attenuanti Del caso Lui è l'unico Sempre giustificato E che si merita Sempre dei voti in più Quel mezzo voto in più Glielo do volentieri Poco cercato anche Se vogliamo A un certo punto Da tutti gli altri È stato un momento In cui lui Si proponeva sempre Si cercava sempre Andare dall'altra parte Non so se Per poca fiducia Da parte dei compagni Non so Non lo so Però sicuramente Fra botta Ha fatto una buona prestazione Contro la Lazio Quindi gli voglio dare Sei meno Quadrato sette Gli do sette Gli do sette Perché l'uniche volte Che riusciamo a essere pericolosi È perché questo Cristo Riesce ad arrivare sul fondo E mettere il pallone in mezzo Sono I modi più pericolosi Che abbiamo Di fare gole Anche oggi L'assist Del gol del 1-0 Lo da lui Tra l'altro Sono una bella palla Di Bentancur Che è bravo A riservire Quadrado Dopo che L'azione si stava sviluppando In altre maniere Però poi Bentancur Va a peccare In tutto il resto Secondo me ha fatto anche Una partita Quindi Quadrado Solita Ottima prestazione Anche l'assist Poi Bentancur Va a peccare Sia sul cartellino giallo Che ha preso Che ci poteva stare A batterlo Ma anche no Perché comunque Aveva già fatto perdere Abbastanza tempo Alla lasta sulla ripartenza Ha pressato molto bene Secondo me A un certo punto Ha recuperato anche Tanti palloni Era palesemente morto Quindi Probabilmente All'ultimo minuto Non doveva neppure Nemmeno essere in campo Doveva essere sostituito In qualche modo Io avevo azzardato Artur da subito Perché era il cambio Più logico E poi si fa saltare Veramente con un berillo Insieme al suo compagno Rabiot Io a Bentancur Do 5 Rabiot do 5,5 Perché comunque Rabiot nel complesso Mi è piaciuto di più Anche bravo Propositivo A spingere A cercare di recuperare Più palloni Di verticalizzare Però È abbastanza pesante Pesante Secondo me L'errore Alla fine In cui ci facciamo saltare così In cui Bentancur È sicuramente più colpevole Quindi io voglio dare Una valutazione Abbastanza Negativa A entrambi Ripeto Magari hanno fatto Anche delle partite oneste Ma quel cazzo Di gol Al 94 Scusatemi Scusatemi Ti porta giù Tutto il resto Per forza Deve abbassare Tutto il resto Kuluseski Sei più Dico sei più Perché ci sono stati Dei momenti In cui dicevo Ma c'è Kuluseski Sì c'è Perché Pirlo lo chiamava Gli ha chiamato Praticamente Tutti i movimenti E ha fatto Delle buone strappate Ci sono state Un paio di occasioni Una volta che si è procurato La punizione A fine primo tempo Quella volta che ha dato Il pallone dentro A Ronaldo Per il palo Traversa Incrocio dei pali Insomma Ci sono state Delle occasioni In cui Kuluseski Ha fatto vedere Di essere ok C'è stato Quella volta In cui ha saltato Due uomini Che erano Luiz Alberto Milinkovic Savic Creando superiore Sono ancora state Poche azioni Ma stiamo vedendo Un Kuluseski In crescita Sta diventando Sempre più Kuluseski E sono sicuro Che Kuluseski Diventerà un giocatore Indispensabile In questa Juve Sicuramente un giocatore Con il grafico Verso l'alto In questo momento Dopo la panchina Di Champions League E dopo la panchina Con lo Spezia Ma dove in Champions League Non è nemmeno Entrato In questa seconda parte Di campionato Questa parte Che inizierà post Sosta delle nazionali Voglio vedere un Kuluseski Sempre più protagonista Questa Juventus Perché sono convinto Che le potenzialità Ce le abbia Poi c'è Morata Do sei più Anca Morata Do sei più Anca Morata Perché ha fatto Un primo tempo In cui non mi aveva Convinto tantissimo Sono sincero Poi nel secondo tempo Forse ha tirato fuori Un po' di grinta Ha fatto vedere Di avere ancora Quel mordente Quella voglia Di combattere Di lottare per gli altri Di far salire la squadra Di fare il centro avanti Di prendere i falli È stato molto d'aiuto A un certo punto Peccato che poi Nemmeno lui ne avesse più E siano stati costretti Al cambio Siano stati costretti Al cambio Dove è entrato Bernardeschi Anche se Quegli ultimi secondi Di Morata Quegli ultimi due minuti Più recupero Avrei voluto vedere Morata ancora in campo Ad aiutare A lottare Non è stato così È sicuramente Uno dei giocatori Più positivi Di questo avvio E poi Cristiano Ronaldo E poi Cristiano Ronaldo E poi Cristiano Ronaldo Perché Qua è Croce Ed Elizia Ha fatto gol So che sembra scontata Questa cosa Ha fatto gol Ha preso un palo Ha avuto altre due Buone occasioni Ha tirato una buona punizione Alla fine del primo tempo Dove Reina Ha buttato in calcio Una gol che non si è battuto E ha avuto tante volte In contropiede L'opportunità Di servire i compagni Quindi ha fatto gol Poteva fare altri gol E ci sono state Le occasioni In cui poteva Far segnare gli altri Ora Io amo Cristiano Ronaldo Sono un Cristiano Ronaldo Fanboy Però lui non è che può Tutti i palloni Averli per sé Tu devi capire Che è una certa Se ha anche già fatto gol Se questo aiuta la squadra A concretizzare un'azione Una contropiede Una ripartenza Se aiuta la squadra A concludere un'azione A farla andare sul 2-0 Sul 3-0 Sull'1-0 Cazzo Fallo Ci guadagni solo tu Ci guadagni solo tu Perché poi Aumentando il vantaggio Gli avversari Sono costretti Ad attaccare E in contropiede Cristiano Ne puoi fare anche degli altri Ma fare assist O alzare la testa A vedere gli altri Non è un demerito L'abbiamo visto in Champions Che non l'ha fatto con Morata Nel secondo tempo L'abbiamo visto oggi Che tante volte Sforzava la giocata Sforzava il tiro in porta La valutazione di Cristiano Ronaldo Oggi è positiva È 7 Credo che sia stato Uno dei migliori in campo E ha avuto l'opportunità Anche di portarci avanti 2-0 3-0 Ma adesso Da Cristiano Ronaldo Dove oggi L'ho visto anche A sacrificarsi In fase difensiva Rientrare Abbassare la testa Correre Pressare Voglio anche Il gioco di squadra Perché molte volte Noi Ci fossilizziamo Su Cristiano Ronaldo Ed è un pregio Siamo fortunatissimi Di avere Cristiano Ronaldo Ma Cristiano Ronaldo Deve anche capire Che alla sua età E dopo una carriera Come la sua Non può più solo Giocare da solo Nonostante Un campionato di Serie A Che sicuramente Non è dei più allettanti Non è dei più alti A livello qualitativo Di livello Cristiano Sono convinto Che aiutando Gli altri Ad arrivare Ne guadagnerai Anche te Giocatore tra l'altro Come si è ricordato La Juventus Che è quello Che ha segnato di più Nei 5 campionati europei Maggiori nel 2020 Nonostante il covid E per questo Che ti dico Aiuta gli altri Che se questi Già sono numeri incredibili Li aumenti ancora di più Abbiamo bisogno Del gioco di squadra Abbiamo bisogno Di Cristiano Ronaldo Che gioca anche per gli altri Non è una critica È una mia Precisazione Una mia Vole essere puntiglioso Perché so veramente Che potremmo guadagnarci tutti Paolo Di Bala Paolo Di Bala Non ci siamo Doveva entrare per Morata È entrato invece per Ronaldo Che ha avuto quel problemino Alla caviglia Sullo scontro con Luis Alberto E Paolo Di Bala Non ci siamo Allora Qualcuno mi aveva detto Già contro Il Ferengvaros Eh no Di Bala Già molto meglio Stasera ha fatto doppietta Già molto meglio Io Già in live Avevo detto Sì sicuramente La prestazione sarà positiva Il voto sarà positivo Gli avevo dato Pimpare 7 Perché comunque Aveva fatto gol Aveva pressato Era lì Aveva bisogno di questo gol È quello che volete Ma non era vero Di Bala Come Kuluseski Il gol con la Sampdoria Sì aveva fatto gol Un bel gol Aveva sbloccato Esordio con la Juve Gol con la Juve Sicuramente un voto è positivo Ma non era nemmeno Il miglior Kuluseski E sapendo chi è Di Bala E sapendo chi è Kuluseski E sapendo cosa Possano dare questi due giocatori Non possiamo accontentarci Di quello che abbiamo visto Fino adesso Né da Di Bala Né da Kuluseski Sono due giocatori che devono crescere entrambi Devono trascinarci Devono aver voglia Devono garantirci dei punti Di Bala è disastroso In questo inizio di stagione Prima l'infortunio Quindi è saltato la preparazione E diamogli tempo Poi il virus gastrointestinale E quindi ancora una volta Gli diamo tempo Giustamente La preparazione Deve aspettare Deve tornare Oggi Non si parla Di preparazione Non si parla Di livello fisico Si parla di attenzione Già il tuffo Bruttissimo Su Mininko Vissavic Al novantesimo Che non lo tocca minimamente L'arbitro Al guardaline Non ci cascono Non ci siamo cascati Neanche noi in diretta Era un segnale Di Di Bala Che Boh Ma quel pallone All'ultimo Secondo Paolo Di Bala Io lo so Che Te li porti dentro Queste cose So che Che ti daranno noia Ti stanno perseguitando Queste cose So che anche Ho già letto di tutto Di Bala deve andare via Di Bala è una merda Di Bala è un coglione Di Bala Speriamo di venderlo Di Bala ha rotto i coglioni Di Bala non ci serve più Io non sono di questa idea Io sono dell'idea Che Di Bala è patrimonio Della Juventus Non è un problema Della Juventus E anzi È una risorsa Della Juventus Però è novembre È l'otto di novembre Il campionato è iniziato Siamo quasi Che non è vero A metà Perché quest'anno Siamo partiti tardi Paolo Hai avuto tutte le attenuanti Del mondo Ora basta Ora Bisogna essere Paolo Di Bala Perché sappiamo Chi è Paolo Di Bala Sappiamo cosa sa fare Paolo Di Bala E questo non lo è E questo non lo è E ora Pausa nazionali Fai tutto quello Che ti serve Per tornare a essere Paolo Di Bala E diventa Paolo Di Bala Non ti va bene Partire dalla panchina Perché giocano gli altri Ti impegni più in allenamento In questo momento Sei riserva Giustamente Giustamente E se vuoi conquistarti Il posto da titolare Ogni volta che entri Mangi l'erba E in allenamento Mangi l'erba Non è tenendo il muso E tutte queste cose qua Addirittura ho sentito Qualcuno che mi dice Secondo me sta giocando male apposta Sarebbe gravissimo E non ci credo 5 in pagello McKennie Non saprei dargli un voto Sono sincero Sei Non ero molto concentrato È stato un po' Confusione Poi Quando è entrato McKennie È stata una partita confusionaria Sicuramente Non ha vatto Degli errori evidenti Non ha sbagliato Cose evidenti Non ha vatto Cose clamorose Diamo gli sei Non ho niente Da dire Come non ho niente Da dire su Bernardeschi Che è entrato Perché Morata Non stava bene Non è colpa sua Assolutamente Senza voto Poi cepirlo Qua invece Mi permetto di essere Un pochino Reluttante Perché capisco sostituire Ronaldo Se non sta bene Perché in quel momento Stava entrando le bala Per Morata Ronaldo si butta a terra C'è male alla caviglia Lo cambi Tra l'altro Ronaldo sapeva che aveva male L'aveva appena detto E poi chiede io Sì Insomma Mettetevi d'accordo Parlatevi E mi va bene Però dopo togliere anche Kulusevski Che era uno di quei pochi Che riusciva a tenere sul pallone Portare sul pallone Dice C'è Morata Sì Però magari Morata Non sta bene Stanco Lo volevi cambiare Bentancur Aveva la lingua fuori Faceva così Tipo un tappeto Così la lingua di Bentancur Era munito Fai un cambio Fai un cambio Non sta bene Artur Non lo so Magari non sta bene Artur Non lo mette su Perché non sta bene Metti su Portanova Metti su Bernardeschi Prima Però Qualcosa bisognava fare Cioè Bentancur Veramente non ne aveva più Lo stesso Portanova Frabotta Metti Bernardeschi Per Frabotta Frabotta si vedeva che Stava facendo fatica Infatti tutti i pallone Mi tirava su Non ne aveva più Per giocare a questi livelli La concentrazione La tensione va via Oggi avevamo anche Una panchina corta Sono d'accordo Però i cambi di Pirlo Non mi hanno convinto La formazione di titolare Sì Azzeccata I cambi un po' meno E quindi devo dargli Cinque Mi dispiace Però ogni tanto Bisogna anche Essere Puntigliosi anche Con gli allenatori Poi Ripeto Queste non sono bocciature Definite Queste sono Le cose che ho visto io E che non sono piaciute O sono piaciute a me Luca Toselli Quindi sicuramente Queste pagelle Come tutte le pagelle Sono personali Voglio sapere le vostre opinioni Qui sotto nei commenti E niente Vado a editare Live Reaction Ve la porto domani Amara eh Questo Lasty U È molto amaro Come il caffè Che ho bevuto Dopo la carbonara Fredda Che mi sono mangiato